Si può impazzire per rincorrere la perfezione, è quanto accade alla giovane ballerina protagonista di Il Cigno Nero, grazie alla quale Natalie Portman si è portata a casa il Golden Globe di quest'anno ed è favorita ai prossimi Oscar, diretta dal regista di The Wrestler, Darren Aronofsky. Anche in questo caso ho lavorato sul corpo di atleti che usano la fisicità per esprimersi, ci ha detto il regista, ma ogni storia ha una sua vita. Qui si va in profondità nel concetto di dualismo, di bene e di male, cigno bianco e cigno nero. La protagonista è pronta a sfidare il suo corpo e a metterlo in gioco per convincere Vincent Cassel, il coreografo senza cuore, e per vincere la concorrenza di Mila Kunis, coprotagonista premiata a Venezia. Grazie a tutti.